E bella a tutti allenatori, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Allenatori, oggi andiamo a vedere, andiamo a discutere un attimino su quello che è stato trovato all'interno dei codici del gioco. Chi di voi ha già potuto vedere qualcosa, o in alternativa anche dalla copertina? Sembra che la prossima stagione appunto sia rivolta alla regione di Sinnoh. Et voilà, allora, eccoci qua, ho messo anche un bel fortunuovo e pezzo stella, raga. E adesso vediamo anche il perché devo racimolarmi veramente il tutto, il mondo qua, guardate qua. Sempre all'ultimo, io sempre all'ultimo, ma ci tenevo a prenderlo insieme, raga, tutte le missioncine qua. In caso, non lo so, che spunti fuori qualcosa di molto interessante. Festa in gruppo, eccolo qui, raga. Brevissimo, adesso andiamo a vedere anche, però. Come sto messo io? Allora, facciamo semmai così, punti, lotta, vediamo il mio. Poi magari saranno anche da potenziare, quindi magari ditemi un po', raga, se volete, un bel video potenziamento, un bel video max, che maxiamo un po' tutti i nostri Pokémon. Faccio prima a scriverlo. Lo scriviamo, allora, di alga, di, di, di a, di a, di a, eccolo. Anzi, qua che non c'entra una cippa, ma ormai lo trova col filtro. 93, 96 di alga e magari, raga, dovrei tentare un qualche scambio fortunato, forse, a caccia, magari di un bel 98 o 100% di alga. Avrei preferito, magari, anche, chiaramente, non c'è neanche da dirlo. Lo shiny è un po' più forte, però, eh, un po' così così, un po' così così. Mentre vediamo quelli di Palchia, ragazzuoli, Palchia, Palchia, è finita la Palchia, è finita la Palchia. 98, 98, che poi è anche uno di questi shiny qua, grazie mille a Oscar. Infatti, vedete qua, Pavia, mentre l'altro, da dove arriva? Da dove arriva? No, questo qua, quando ero giù a Palma, forse, in Spagna, nel 2021. Porca misera, se vola il tempo, raga, sembra ieri. Però un bel 98, vedo che ce l'ho qua. Non hanno quindi ancora inserito ancora niente, raga, ancora niente. Qua possiamo vedere che non ci sono nuove icone, possiamo dire, perché, appunto, arriveranno le loro due forme originali. E allora, bomberoni, adesso andiamo a vedere quello che ci attende per la prossima stagione. Allora, allenatori, mi raccomando, tutto quello che andiamo a vedere adesso, prendetelo un po' con le pinze, perché, chiaramente, non c'è la notizia ufficiale da parte di Niantic. Hanno trovato queste cose qua, appunto, all'interno del codice di gioco. 90%, 80, 90%, raga, arriveranno, come è sempre accaduto. Però, chiaramente, ripeto, attendiamo la news ufficiale. E guardate qui, allenatori, ma di cosa stiamo parlando? Porca di quella miseriaccia. Allora, iniziamo sicuramente da Di Alga originale. Origin, guardatelo lì, raga, a sinistra, perché è fantastico. Ditemi qual è il vostro preferito tra Di Alga originale e Paikia originale, raga, eh, perché qua ho sentito molti allenatori che gliene piace uno piuttosto che l'altro. Va un po' a gusti anche qua. Io, sinceramente, raga, devo dire che sono tutte e due molto, molto belli. Non so quale sia quello più forte, quello con più attacco, quello con più difesa. Poi, semmai, andremo a vedere anche un po' queste statistiche. Però, primo impatto, così, devo dire che sono tutti e due molto, molto fighi. Cioè, Di Alga originale e Paikia originale. Che bellezza. Staremo a vedere anche in game, ragazzoli, quando una volta, appunto, saranno dentro in gioco. Come faremo per ottenere questa forma qua? Bisognerà cambiare forma, una sorta di frufru. Cioè, magari con tot caramelle e tot polvere di stella cambiamo la forma. O sarà proprio una loro evoluzione. Dopo arriviamo lì a destra, raga, vairdir, virdir. Perdonatemi, ragazzuoli, ma ormai queste generazioni lo sapete. Io sono un amante e ho vissuto le prime. Infatti, questo qua sembra una sorta di stentler, ragazzuoli. Molto carinuccio, infatti, la forma cromatica è anche un po' sul verdino, anche lui. Dopo abbiamo Isuan e Samuroth, Samuroth di Isui, che non l'avevo mai visto, sinceramente, neanche lui, raga. Dopo, chiaramente, abbiamo anche Desiduai e Typhlusion. Typhlusion, sì, raga, perché è bellissimo. Infatti avevo preso proprio lui in leggende Arceus. Il mio preferito qua è sicuramente Typhlusion, raga, di Isui. Bellissimo, veramente bellissimo. Dopo, andiamo avanti, raga, perché arriviamo, guardate qua. Altre cose sono state introdotte nel codice di game. Guardate qua, P, una, ennesimi, ennesimi. Pikachu, Fla, e volo lì. Pikachu, volo, 0-4. Il 0-4, perché ne abbiamo già 3 all'interno del game. Mi pare di sì, raga. Forse, però, anche di più, perché con questi palloncini ce ne sono stati rilasciati un bel po', eh, di Pikachu. Addirittura anche quelli dell'anniversario, perché all'interno dei palloncini c'era il numerino, ad esempio, il numero 2, il numero 3, per fare, appunto, la festa dell'inaugurazione. Infatti, allenatori, ditemi un po', vai, cosa ne pensate di tutto quello che stiamo vedendo adesso? Perché quando anche arriveranno in game, magari, non lo so, per un qualche tour di sinno, perché qua vediamo, raga, attenzione. Vabbè, il Pikachu t-shirt 0-3, lì sopra, che anche quello, perché è vento, attendiamo, attendiamo con ansia. Però sotto, raga, Go Tour 2024, eccolo lì, 2024, A1 e A2. Io adesso qui non so, raga, se sono simili, uguali o diversi rispetto a quelli dell'anno scorso, quelli, appunto, con il cappellino di Vera e il cappellino di Brandon. Magari ogni anno Pikachu viene rilasciato così per ogni tour. Sotto vediamo le feste di Natale 2023, raga, quelle che arriveranno a brevissimo, insomma. Infatti, dovremo avere la news, penso, a giorni. Guardate qua il Pikachu, raga, che bellino. È diverso, è da quello dell'anno scorso, quindi molto bene. L'anno scorso aveva il cappellino proprio di Babbo Natale. Possiamo dire che l'avevo trovato sculatissimo, sculatissimo. Mentre qui, però, possiamo vedere che ha l'evoluzione. Quindi dobbiamo trovarne almeno due, raga, per fare, appunto, l'evoluzione in Raichu esclusivo. Guardatelo lì. Ci saranno altri Pokémon in costume super esclusivi e stiamo parlando di Psyduck, raga. Psyduck con tutti i Pokémon che potevano inserire. Psyduck, guardatelo qua, con lo sciarpino lì e il cappuccino anche di una sorta di Babbo Natale. Possibile Shiny anche lui, abbastanza carinuccia la forma cromatica. Arriviamo, dopo, ragazzuoli, a altri leggendari. E che leggendari, porca miseria, raga, finalmente si parla di Mega Mewtwo. Mega Mewtwo Y e Mega Mewtwo X, guardatele lì, raga, che bellezza. Qua anch'io devo ancora capirci un attimino su quale forma è più forte di queste qua di Mewtwo, perché a me, raga, piace tantissimo la forma Y, cioè, guardatelo lì, che bellezza, che bellezzo. Sembra magari anche un attimino più futuristico, non lo so, raga, mentre la X è bella, sì, ma non mi dice più di quel tanto. Invece la vostra forma preferita di Mewtwo, qual è? Dopo Mega Metagross, raga, mi ero dimenticato che anche lui aveva la Mega Evoluzione. Che bellezza, raga, che bellezza, guardatelo qua, deve essere veramente fortissimo. Poi Mega Metagross, anche Shiny, staremo a vedere, raga, non vedo l'ora di registrarlo. Mega Sharpido, che sinceramente è quello che mi aspetto di meno, che attendo di meno, raga, perché Sharpido, sì, vabbè. Mega Mewile, bellissimo, raga, sembra quasi un samurai, cioè, ma che bello, anche la forma Shiny, sia tutte e due. Però la Shiny lì, col rosso, bellissimo, Mega Mewile tip top. Arriviamo a Mega Udino, oddio Udino, ma come mai è bianco, giallino lì con gli occhi, poi bellino, raga, bellino, audino. Arriviamo a Mega Camerout, che ha un vulcano, raga, sopra praticamente. Arancione è la forma normale, invece il nero lì è la forma cromatica. Tutte e due molto belli. E infine, non per ultimo, sicuramente, Mega Lucario, raga, Mega Lucario, che non è quello meno importante, anzi, per me è sicuramente uno di quelli a pari merito con Mega Mewtwo e Mega Metagross. Anche se poi all'interno del game magari non sono a pari merito con la loro forza, però Mega Lucario è veramente bellissimo, raga. Ma poi lo Shiny, guardatelo lì, che bellezza, sarà veramente tanto forte, eh. Arriviamo a Wishiwashi, solo form, che questo qua, io raga, non so cosa, so il Pokémon Wishiwashi. Ma non conosco le sue forme, infatti, forma solo e forma scuola qua, addirittura, quello lì a destra, che ammazza, cioè fa quasi paura, raga, sembra quei pescioni lì, giganteschi, di 20-30 metri che ci sono nell'oceano. Chiaramente anche la sua forma cromatica, ma aspettiamo una volta che arriverà in game. Aegislash forma scudo qua, praticamente, che anche lui deve ancora arrivare all'interno del game, mentre quello dopo è forma spada, blade. Ok, molto bellino, devo dire che preferisco magari la forma spada, il blade. E sotto abbiamo Likarok, forma crepuscolo, dovrebbe essere anche lui Likarok, che dobbiamo ancora fare la sua evoluzione, che avevo trovato dei Rockcraft shiny, spettacolari, raga, spettacolari. Dopo, eccolo qua, non vedevo l'ora, raga, Necrozma, Necrozma, finalmente dovrebbe arrivare all'interno del game a brevissimo. Marshadow, raga, ma guardate che bellino, cioè lui nei film, nei cartoni, è sempre stato un burlone, un burlone. Mood Bray, l'asinello qua, con la sua evoluzione mooddale, mood sale. Abbiamo anche Drampa, che vedete, raga, mettono la forma normale, ma anche quello shiny, poi non è detto che una volta arrivati in game ci sarà subito la forma shiny. Come sempre ci faremo sorprendere, dopo abbiamo Piucumuku, ma che cacchio è, raga, questo qua, è un dolce, sembra. Piucumuku, ammazza che Pokémon lì, va bene, shiny però, bellini, eh, perché cambia nettamente la colorazione. Cetoddle, cetoddle, ammazza che pronuncia, raga, qua, ormai. E l'ultimo, infatti, abbiamo Cetitan. Nel codice di gioco è anche stata trovata, raga, questa cosa qua, riguardante... Io non so cosa è quell'emoticon lì, quel signore qua, praticamente, raga, cosa è? Allora, ci viene detto che è una roba con i regali, forse anche con i percorsi, perché c'è scritto Root Gift. Regali nei percorsi, staremo a vedere, raga, anche infatti sotto lì la cartolina che praticamente dovrebbe essere associata ai percorsi. Vedremo, raga, vedremo. Stanno facendo sicuramente qualche aggiornamento sui percorsi per farli percorrere di più da noi allenatori. E infatti sono state trovate anche questa roba qui, raga, una panchina. Cosa è una panchina? Io non lo so, e dopo anche questa roba qua che, a parer mio, è tipo un lampione. Ma staremo a vedere, raga, una volta annunciati da parte di Niantic. Allenatori, allora, che dire ancora? Cioè, abbiamo visto robe veramente pazzesche. La forma originale di Dialga e Palkia, non vedo l'ora, raga, che arrivano in game. E voi, allenatori, cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo visto oggi? E su quale Pokémon Shiny, Leggendario o magari Mega Evoluto vi punterete? Perché ne abbiamo visti veramente tantissimi, raga. Chiaramente la stagione devono ancora annunciarla e sarà molto lunga. E allora, allenatori, non ci resta che attendere con molta ansia e preparare le nostre squadre al meglio. E per oggi, Bomberoni da Gamer Joe, è veramente tutto. Mi raccomando la descrizione del canale per rimanere sempre aggiornati. E se il video, raga, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!